Il marchio Desalto nasce 21 anni fa. Desalto produce tavoli e sedie dallo stile contemporaneo di sapore nordico, rigoroso ed essenziale. Desalto oggi è percepita come un'azienda che produce arredi dall'elevato standard qualitativo, funzionali e frutto di ricerca tecnologica. Tra le tante novità del Salone 2011, Desalto affida a Paola Navone la mise en scène dell'allestimento dello stand, una veste che ha il pregio di consentire una nuova interpretazione della produzione dell'azienda. Intrigante e curiosa la doppia lettura cromatica dello spazio. Percorrendo in andata lo stand, tutto è bianco, arrivati al fondo e ripercorrendo al ritroso, lo stand si colora. Per quanto riguarda i prodotti, due sono le novità più importanti, il tavolo 25, così chiamato per lo spessore costante e sottilissimo del piano e della gamba, che è appunto di 25 mm. È forse il più lungo tavolo mai realizzato con processo industriale, capace di arrivare fino a 3,50 m di lunghezza con uno spessore di 25 mm. E poi c'è la famiglia di sedute Kobe, una nuova, completa e articolata serie di sedute flessibili, resistente e riciclabili al 100%. Kobe è perfetta nelle sue tante facce in spazi e ambiti molto diversi, in casa o fuori casa, dalla cucina al pranzo, dall'ufficio pubblico all'ufficio in casa e soprattutto nella sua anima contrat, ovunque ci sia un locale, un ristorante, una sala d'aspetto.